Il cadavere trovato i rimattini in avanzato stato di decomposizione nell'area dell'ex edixco Splash di Montesilvano accende di nuovo i riflettori sul degrado su strutture che abbandonate diventano luoghi di ricovero per senza tetto e disperati. Il fatto di cronaca spinge l'opinione pubblica a dare un giudizio, a puntare il dito contro le istituzioni e contro i privati. Il sindaco Ottavio De Martinis nel maggio scorso ha anche emesso un'ordinanza per ripulire l'intera area ma è già tempo di guardare avanti e di capire le soluzioni che potrebbero portare l'acqua disco Splash a rivivere un periodo di splendore come quello degli anni 90. L'area dell'acqua disco rappresenta davvero tanto per il nostro territorio ed è davvero triste constatare quanto da anni viva in una situazione di semiabbandono dovuto va sottolineato anche a un aspetto insomma morfologico perché al ridosso del fiume è vincolata quell'area dal piano di sondazioni per il quale peraltro la regione sta intervenendo proprio nei prossimi mesi ci sarà un'azione volta a mettere in sicurezza gli argini e speriamo che questo possa in qualche modo dare impulso a qualche imprenditore che si faccia avanti per realizzare nell'area qualcosa di importante. E nemmeno la proprietà in questi anni è stata con le mani in mano. Tante le idee da parte dei privati e chissà che a breve grazie anche a fondi destinati alla causa ben 11 milioni di euro non si possa parlare tra poche settimane di un progetto concreto. Abbiamo presentato vari progetti anche perché avevamo degli acquirenti molto appetibili e molto facoltosi però poi siamo incappati con lungaggini un po' burocratiche un po' con non comprensione dei progetti perché era un progetto housing sociale fantastico il primo in Abruzzo e quindi alcuni ritardi. Poi siamo incappati in una legge restrittiva che riguarda gli argini del fiume e adesso siamo bloccati. Una volta sormontato questo grande problema io sono qui, chiamatemi, offerte concrete, neanche tanto perché mi rendo conto che adesso il problema economico si sente. Io sono a vostra disposizione per derimere questa vicenda.